Ciao a tutti, la mia anima non si rassegna ad averla perduta. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramascomon, che iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, cosa significa la mia anima non si rassegna ad averla perduta? Che quando abbiamo una situazione, un oggetto di desiderio, qualcosa che desideriamo, spesso non ci rassegniamo un amore a perderlo o a perderla e questo è il principio della fine da un punto di vista della nostra felicità, perché nel momento in cui noi non ci rassegniamo, entreremo in un girone infernale, nefasto, in cui vivremo prima l'infelicità, poi il malessere e successivamente anche delle punizioni sempre più forti. E invece quello che dobbiamo imparare a fare è ad accettare le situazioni e a sedurre utilizzando le strategie di seduzione, ma con distacco dal risultato. Ecco, tutto questo io poi lo insegnerò per chi volesse partecipare al mio seminario venerdì 29 novembre 2019 a Torino alle 20.45 e il riferimento è il 333 15 11 703, quindi venerdì 29 novembre a Torino 20.45. Comunque nel box lascerò le info. E allora come accade tutto questo? Bene, noi abbiamo una riflessione che quando la storia A mi va male, poi mi va male la storia B nello stesso modo, la storia C pure peggio, allora scatta dentro di me, può scattare nel momento in cui io mi chiedo perché le cose mi vanno male, può scattare un meccanismo nefasto, che è un meccanismo potremmo dire riflessivo, dove mi attribuisco prima degli impedimenti, cioè credo di essere impedito nel fare le cose, nel riuscire a raggiungere, a conquistare ciò che io desidero, impedito nel decidere, limitato nella mia libertà decisionale. Ma successivamente mi sento pure incapace di riuscire a conquistare quello che voglio conquistare, perché fintanto che mi sento impedito c'è un oggetto cattivo che mi mette il bastone tra le ruote, ma poi dopo mi sento incapace. E allora quando mi chiedo ma perché io sono incapace, entro in una dimensione, esco fuori da una dimensione reale, dove ci sono delle persone oggettive, ma entro in una dimensione diversa, in una dimensione trascendentale, una dimensione esoterica. In questa dimensione esoterica io penso di essere nato sotto una cattiva stella, penso che di avere un karma negativo, penso che l'universo ce l'abbia con me. In realtà il karma lo creiamo tutti i giorni, sono le nostre azioni, questa, quando le cose vanno male, diciamo, c'è un karma negativo, quando le cose vanno bene tendiamo a dire un karma positivo, non è vero niente. Il karma siamo noi, karma sono le azioni che facciamo, karma sono ciò che, le azioni che noi facciamo. E allora non dobbiamo credere che il karma sia un qualcosa di negativo o positivo, ma noi dobbiamo agire, dobbiamo agire e dobbiamo imparare a conquistare, a conquistare mantenendo distacco dal risultato. E non dobbiamo, diciamo, non rassegnarci e quindi entrare in uno stato di negatività, perché la non rassegnazione non vuol dire, se tu non ti rassegni, vuol dire che entri in uno stato in cui non puoi fare meno, in uno stato di bisogno. Quindi invece lo stato emotivo giusto è quello dell'accettazione dei risultati, dei fatti. La cosa è in questo modo. È inutile che non mi rassegno a che mi abbia lasciato. Mi ha lasciato! Punto e basta! Quindi non si tratta di rassegnarsi, si tratta di entrare in uno stato in cui da quel punto lì posso fare delle cose. Noi abbiamo un grande potere che è il potere dell'interazione, non dovete mai dimenticare che avete questo grande potere che è il potere di interagire. Interagire vuol dire agire con gli altri, perché noi non possiamo mai agire senza interagire con altre persone. Quindi abbiamo questa grande opportunità, questa grande possibilità, ma dobbiamo utilizzarla. Questa possibilità, questa opportunità, dobbiamo farla nostra e dobbiamo agire nel modo migliore. Quindi agire strategicamente, essere come dei pitbull, mantenere la ragione, avere la motivazione a fare le cose senza abbandonare. Ma il che non vuol dire non rassegnarsi e quindi stare a pensare perché mi è capitato questo, sono sfortunato, io come faccio? Perché entri in uno stato di bisogno e allora tirerai situazioni ancora più negative. Quindi tu invece non devi entrare in quello stato di bisogno, devi entrare in uno stato di forza, in uno stato di potere, in uno stato di mente che governa gli eventi. Noi abbiamo la capacità, la possibilità di governare gli eventi, abbiamo la possibilità di sedurre. Basta capire quali sono i turbamenti che vivono le altre persone e amplificarnele. E acquisteremo una capacità quasi illimitata di seduzione. diventeremo seduttori naturali, ma per essere seduttori naturali dobbiamo sedurre, dobbiamo agire senza accanirci, senza spirito, diciamo così, di accanimento e senza autosomministrarci, diciamo così, delle tensioni negative da soli. Perché altrimenti ci nutreremo dell'inverso, ci nutreremo del negativo. E le strategie di seduzione sono poi tuttosommate abbastanza semplici e che le spiegherò dettagliatamente venerdì 29 novembre 2019 a Torino, nel seminario che farò proprio sulla seduzione, il riferimento al 333 15 11 703. Ma seduzione intelligente, cioè perché prima di tutto devo sedurre me stesso. Se io non sono stato in grado di sedurre a me stesso, non potrò mai e poi mai sedurre gli altri. La seduzione è la capacità di interagire con gli altri in modo efficace, in modo efficiente. E per farlo devo avere forza, devo avere forza interiore, devo avere una grande forza interiore che posso conquistare soltanto attraverso l'autostima, soltanto credendo in me stesso, soltanto eliminando i pensieri negativi dalla mia vita, ma eliminando l'impofondità, sostituendoli con un'altra tipologia di pensieri, pensieri positivi, pensieri che vengono dal profondo, ma soprattutto attraverso delle azioni. Perché quello che capisce la nostra mente sono le azioni, altrimenti se tu fantastichi e pensi, ah io farò questo, io farò quello, io farò quella, ci sono tante persone che hanno pensieri. Ecco, il pensiero che inibisce l'azione ti castra ancora di più. Perché è inutile che pensi, ah avrò la Mercedes, quando avrò, che ne so, la Mercedes nuova, quando avrò la fidanzata nuova, quando avrò lavoro nuovo, è fantastico di questo lavoro nuovo, e poi dopo concretamente non fai nessuna azione e speri che la manna caschi dal cielo. Oppure fare un'azione e sbagli, perché sbagliare capita, è un'informazione, ma tu, questo, le persone non se ne rendono conto, alcune persone, io dico, ma devi trovare la tua indipendenza, devi iniziare a fare le cose. Quando tu speri che ti capitano le cose dall'esterno, o speri in un'altra persona, speri di riuscire a risolverti socialmente grazie, che ne so, a un matrimonio, a una coppia, a un fidanzamento, questa è una vana speranza, perché tu perdi la tua forza, perdi la tua forza propulsiva, la tua capacità di seduzione, diventi una persona che dipende dagli altri, e questo non ti rende un seduttore, seduttore non dipende da nessuno, o una seduttrice, non dipende da nessuno, interagisce con tutti, ma non dipende da nessuno. Ecco, il motto è, interagisci con tutti, ma non dipendere da nessuno, perché nel momento in cui dipendi da qualcuno, rientri nell'essere sfigato, rientri nell'essere sfortunato, rientri nell'essere disgraziato, tra virgolette, e invece devi cambiare, ma ce la puoi fare partendo da te stesso e venendo al mio seminario venerdì 29 novembre 2019 a Torino, dove imparerai la seduzione e la gestione dell'emozione, il riferimento è il 333 15 11 703. Ciao a tutti.